tecnica, velocità e conclusa in maniera perfetta da Ghezzal, veramente un gran gol del Siena da volante di Larrondo, bellissima, mamma mia, veramente un gran gol da parte del Siena perché ti ha dato quel pallone che sale e che scende e quindi ti dà il tempo anche di trovare il passo giusto per andare a calciarlo guarda, Ghezzal è...